Perchè? Perchè? Io che è da noi? Ah vatto, vado? Non se lo aspetta Vito, doveva essere in piccola Vito, dovevo dire tu? Ma dopo, la faccio dopo, è andata a casa di me Ma chi era dopo? Silenzio, sto registrando A tutti voi Belli, brutti e buonelli Perchè? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.